Per festeggiare l'anno nuovo in tutti i negozi Tendenze dell'Isola, tutto l'abbigliamento uomo-donna-bambino a meno 40 e 50%. In tutti i punti vendita Tendenze dell'Isola, un solo grande negozio con tutti i marchi più importanti e prestigiosi, dai teenagers agli adulti fino ai bambini, tutto a metà prezzo. Ma solo per questi giorni, fino al 31 dicembre. Tendenze e a Nuoro, Olbia, Carboni, Sasseri e Dalguero.